Alvia la perizia sul viadotto Puleto lungo l'E45 sotto sequestro ormai dallo scorso 16 gennaio. Questa mattina D'Arezzo è stato infatti affidato l'incarico all'esperto indicato dalla GIP Pier Giorgio Ponticelli. Si tratta della professor Claudio Modena. L'accertamento sarà svolto come incidente probatorio che quindi in caso di processo avrà valore di prova. L'esperto docente dell'Università di Padova il prossimo 4 aprile sarà così sul viadotto Puleto per il sopralluogo. Il perito dovrà stabilire se c'è stata davvero un'omessa manutenzione del viadotto come ipotizza l'accusa sostenuta dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi con i cinque avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti tecnici dell'ANAS oppure no come invece sostiene l'azienda nonostante gli ammaloramenti. La superperizia dovrà anche accertare se c'era il rischio di collasso che aveva portato al sequestro del viadotto e alla sua chiusura. Il tratto era stato poi riaperto a metà febbraio ma unicamente ai mezzi leggeri. Se le verifiche del prossimo 4 aprile saranno ritenute sufficienti, ANAS potrà poi proseguire con i lavori di sistemazione per andare verso la tanta attesa riapertura del tratto del viadotto ai mezzi pesanti, altrimenti sarà fissato un ulteriore sopralluogo.